Una donna è rimasta ferita in un incidente sul lavoro avvenuto in un frantoio di Limbadin, provincia di Vibo, Valencia. La vittima, per cause in corso di accertamento, è rimasta intrappolata in un macchinario che le ha amputato il braccio destro. Subito soccorsa dai colleghi, la malcapitata ha ricevuto le prime cure dai sanitari del 118. Sul posto è giunto l'elisoccorso che ha preso in carico la donna, agendo nel contempo per conservare il più possibile l'arto secondo quanto previsto dai protocolli. La signora è stata trasferita in condizioni giudicate gravi nel grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria dove verrà sottoposta ad un intervento chirurgico allo scopo di salvarle il braccio. La prognosi è riservata.